Salve a tutti, bentornati su No Mamamazzo Oggi recensiremo Zombieland 2, doppio colpo, sigla! Zombieland 2, doppio colpo, bentornati su No Mamamazzo come ho già detto prima della sigla che è Master of Puppets poi vi spieghiamo perché, vi presento il mio ospite di oggi che è F Cosplay che potete trovare su Instagram su Instagram, Facebook solo Instagram, F Cosplay F Cosplay su Instagram oppure su Facebook come Silentes Cosplay poi vi metto i link in descrizione così di che stiamo a parlare allora, siamo andati insieme a vedere Zombieland 2, doppio colpo abbiamo introdotto anche la recensione con Master of Puppets, Day Metallica perché c'è anche, c'è questa sigla, c'è questa canzone all'inizio del film e diciamo che si parte col botto si, viene intorno adrenalina adrenalina allora, innanzitutto il film parte nel migliore dei modi e mi riferisco proprio al logo della Columbia, della Columbia Pictures che non è il solito logo non è il solito logo ma la statua della Columbia Pictures non sta indifferente perché gli zombie la stanno attaccando ma lei si difende allora, noi spoileriamo spoileriamo? sì, chi se ne frega spoileriamo? ve lo diciamo noi spoileriamo quindi se non avete ancora visto il film mettete pausa magari insegnate vedilo più tardi mettete mi piace così a fiducia che cazzo ve ne frega e poi tornate e vedete la recensione ok? così noi adesso parliamo a ruota libera allora appunto c'è questa statua statua che si difende dagli zombie spaccando la torcia in testa agli zombie e anche un quasi in 3D perché non mi sembra che esca dalla sala esatto, esatto è una figata basta il buio della sala per dare questo effetto senza che il film sia effettivamente in 3D e già quello vale il prezzo del biglietto dopodiché appunto si parte con Master of Puppets dove c'è il nostro Jesse Eisenberg Columbus Columbus che come al solito fa la voce narrante diciamo come ha fatto nel primo e che introduce di nuovo i protagonisti che sono gli stessi del primo film che sono trascorsi dieci anni dieci anni secchi sì la ricostruzione parte proprio dai dieci anni di vuoto tra un film e l'altro esatto quindi si vedono i protagonisti che non sono invecchiati assolutamente da Columbus a Emma Stone io dico i nomi degli attori perché scusate la mia memoria Emma Stone è la cerchiamo Wichita che anche lei è bellissima come dieci anni fa Talassi che è Woody Arlinson che anche lui non invecchia mai l'unica che è invecchiata perché chiaramente aveva dieci anni nel primo film è la nostra carissima Abigail che è Little Rock esatto che è un po' meno Little è tanta Rock ed è tanto Rock ha due Rock in più ha due Rock in più e allora sarei bugiardo se dicessi che è uno dei motivi che malato che so Giggidi è uno dei motivi per cui ho detto cazzo voglio vedere Zombieland 2 però devo dire che poi nel film è come la sorellina Emma Watson le vedi crescere sulle tue sorelline sì e poi comunque esatto Emma Stone nel film resta comunque la più bella di tutti cioè non è che perché adesso è sbocciata Little Rock allora gli occhi sono tutti su di lei anzi si sfrutta proprio questa cosa questa crescita di Little Rock dell'attrice e della protagonista per sviluppare la trama del secondo film perché il secondo film nasce proprio da da un'esigenza di Little Rock di uscire un po' dal guscio familiare diciamo chiamiamolo guscio familiare non so se in un mondo del genere possa esistere un guscio familiare però diciamo che questa famiglia che si è creata alla fine del primo Zombieland in cui lei appunto ha dieci anni in cui Columbus e Wichita si sono messi assieme restavano lei e Talassi e Talassi è diventata una specie di figura paterna diciamo che gli ormoni chiamano per quanto possa esserlo e appunto gli ormoni chiamano c'è questo Talassi che gli alita sul collo per quanto possa essere figo un padre putativo come Talassi ultra cinquantenne che non perde un colpo non perde un colpo però appunto Wichita Rock vuole uscire vuole esplorare e purtroppo fa quello che che fa che gli ha insegnato la sorella cioè prende e se ne va lasciando un bigliettino tra l'altro se ne va prima con la sorella esatto perché anche la sorella è stata un attimino si è stancata si è stancata ok di Columbus di Columbus perché c'è qualcosa che gli ha messo paura anche se siamo nella parte spoiler non dico proprio cose tanto non è necessario il cosa è il fatto che è un pretesto per far andare via di nuovo le sorelle così per fare un richiamo anche al primo film per ricordare qual è il vizio che hanno però Little Rock poi scappa anche dalla sorella perché incontra un ragazzo un coglionaccio incontra lo stereotipo in senso negativo dell'hippie di cui se non avete ben presente potete anche cercare qualche puntata di Futurama non so tu hai mai visto la puntata di Futurama degli hippie no vi lascio vedere abbiamo insegnato un leone a mangiare verdure è una cosa del genere ti dico solo che finisce con un alieno che dice il lurido hippie comincia a scalciare comunque vabbè non tergiversiamo c'è proprio su questo stereotipo negativo dell'hippie quindi proprio un po' che se la canta e se la suona anche in senso letterale perché suona la chitarra si pavoneggia antiviolenza non usano le armi che chiaramente durante un'apocalisse zombie è la cosa ideale da fare non usare le armi loro combattono i zombie con l'amore questi questo hippie che non so mi ricordo come si chiama onestamente il nome probabilmente non viene neanche nominato dice anche lui il nome perché allora se non aveste visto se non foste dentro all'universo di Zombieland di cui tra l'altro anch'io me ne pento sono entrato recentemente perché io Zombieland 1 l'ho snobbato per tanto l'ho snobbato per tanto male molto male l'ho visto quest'anno perché l'hanno messo su Netflix quindi hashtag Netflix l'hanno messo su Netflix l'ho recuperato e me ne sono innamorato io non sono un grande amante delle saghe zombie ma questa devo dire che è proprio figa è proprio fighissima c'è quel demenziale curatissimo curatissimo sì sì perché esatto due cose innanzitutto le diciamo subito Zombieland 1 è curatissimo Zombieland 2 è un sequel a distanza di 10 anni che di solito i sequel quando passa così tanto tempo c'è da posso permettermi il termine caga addosso al primo caga addosso al primo ciò nonostante caga addosso al primo cioè è fantastico è come al di là del fatto che l'Hitter Rock è visivamente cresciuta è come se l'avessero girato l'anno dopo è è fenomenale stilo logico senza perdere un colpo senza perdere un colpo tra l'altro doppio colpo anche perché vabbè gli attori non sono gli ultimi venuti già forse già dieci anni fa Emma Stone aveva vinto un Oscar non ricordo l'ha vinto solo con La 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 Land ah con La La Land l'ha vinto però abbiamo Emma Stone Woody Harleston anche Columbus scusa Jesse Asimert è stato candidato all'Oscar con The Social Network o l'ha vinto? esatto non so se l'ha vinto comunque era candidato nel caso correggiamo qua in sovraimpressione o nei commenti non preoccupatevi e l'ultimo che ah ecco è Little Rock Abigail è Little Miss Sunshine che ancora prima di Zombieland il primo era già famosa perché aveva fatto questo film Little Miss Sunshine in cui era la protagonista piccolissima e ha vinto non so se ha vinto anche lei o è stata candidata tanto potenziale tanto potenziale tutti gli attori ecco nel 2 oltre a questo hippie che comunque è un pretesto narrativo per mostrare quanto ha le palle Little Rock rispetto a al ragazzo no quindi c'è un allora adesso nel 2019 va tanto di moda questo femminismo spinto no che tra l'altro alla Disney c'è un po' stracciato i maroni qua c'è c'è un filino di emancipazione di Little Rock ma a parte che è più un'emancipazione da adolescente a prescindere che sia maschio o femmina ma anche ammesso che sia un'emancipazione della serie le femmine sono forti perché è quello sfigato allora è il classico stereotipo del vegano lo fanno vedere anche quello con una classe con una finezza cioè non è nulla di oddio cioè non è la scena a me è piaciuto Avengers Endgame però non è la scena di Avengers Endgame quando c'è la schiera di tutte le le donne esatto le tipe tope tutte super forti ma per che senso aveva quella scena che senso aveva che Capitan Marvel da sola può dare un pugno e uccidere un pianeta che senso aveva che le coprivano le spalle che poteva vabbè però invece ci sta ci sta perché bello poi anche noi maschietti vedere tante ragazze in fila ci è piaciuto però era un po' gratuita quella scena qua tutto ciò che c'è nel film è curato con molta finezza che in un film dove ci sono degli zombie che mangiano cervelli e interiora sembra un B-movie che è diventato legge è diventato più che B scusate è diventato più che una movie perché comunque adesso ci sono film un attimino più che magari sono pieni di buchi ma anche senza stare a guardare la qualità cioè ci sono film da miliardi di dollari che sono pieni di buchi di sceneggiatura questo invece è una gran figata oltre a Lippi che ne abbiamo parlato fin troppo per quanto me ne riguarda ci sono altri personaggi di diciamo secondari rispetto alla la cerchia del primo film che però spiccano si fanno si ritagliano il loro posticino Rosario Dawson Rosario Dawson su tutti non che abbia una parte lunghissima però è fondamentale una parte fondamentale Rosario Dawson è sempre lei nel senso che ha questo suo ruolo da cazzuta non so come descriverlo cioè da non l'ho mai vista in un film dolce sempre tosta sempre tosta sempre cattiva che dà manforte ai nostri eroi stranamente vestita stranamente vestita si diciamo vestita al giusto però poi lei è anche vestita di una sensualità seconda nessuno fondamentalmente per quanto sia più bella Emma Stone senza trucco senza trucco però Rosario Dawson la batte in sensualità diciamo in sensualità a corte per fare un'altra alta citazione della nostra televisione italiana questo effetto il cinema così dirompente Rosario Dawson poi c'è stata sempre quando viene introdotta Rosario Dawson ci sono questi due tizi che hanno una monster truck si chiamano quelle che hanno una monster truck che praticamente sono diciamo i cloni i cloni di Talassia di Columbus ed è una scena che inizia in modo surreale perché solo Wichita solo Emma Stone si rende conto di quanto assomiglino entrambi alle loro controparti perché le loro controparti non guai dicono sono questi due idioti sono proprio uguali palesemente uguali non tentano neanche di camuffare la cosa e all'inizio fa ridere poi dici perché perché le hanno messi due così perché vogliono fare un confronto poi si capisce perché probabilmente volevano probabilmente uno degli sceneggiatori si è chiesto ma chissà come sarebbero le loro controparti zombie e infatti questi poveri due disgraziati non sono bravi come columbus e talassi vengono morsi diventano credono di essere bravi non rispettano le regole le regole questo film è pieno di regole o di comandamenti a seconda che siate del team columbus o del team sfigati perché appunto la controparte ha una sua versione delle regole ci sono delle regole che vi permettono di sopravvivere scusate una delle regole di columbus è non vergognarsi mai non aspettare mai di chiedere aiuto loro questi qua non chiedono aiuto perché sono super orgogliosi super fighi che vengono morsi diventano zombie all'interno della casa dove erano rifugiati i protagonisti e quindi c'è questa lotta molto divertente in cui appunto vediamo zombie columbus e columbus e zombie talassi e talassi che tra l'altro l'attore che fa il sosia di talassi l'ho già visto anche lui non ricordo dove l'ho già visto ma l'ho già visto e fa sempre questa parte un po' da allora film famosi ora non me ne vengono in mente no però c'è un è un viso ho fatto tantissimi comparsa cioè boh fa sempre parti minori minori ma caratteristiche nel senso che è un caratterista e allora dopo questa scena cosa succede che cercano allora chiaramente cercano di raggiungere Little Rock non la città cercano di raggiungere la sorellina la sorellina che si sta dirigendo con il lurido hippie a questa comune si può dire ma in questo caso non è una comune ma è un un rifuna sì un luogo sicuro non so se siete se seguite The Walking Dead però tutte quelle città barricate con le mura alzate di alluminio di fatte in qualche maniera per evitare che gli zombie ci entrino Babylon questa è una è la classica è lo classico stereotipo che si è visto mille volte in The Walking Dead ultimamente di città fortificata dove tra l'altro c'è anche una torre loro mi sembra che siano in cima a questa torre c'è questa entrata Babylon quindi città fortificata barra comune hippie perché appunto quando si entra le armi le sequestrano ma non solo le sequestrano le fondono perché sai non sia mai che potrebbero servire potrebbero servire esatto a me è ricordato molto l'episodio dei Simpsons dove fondono le armi ci fanno gli scivoli c'è Ralph che scende e lo scivolo spara i proiettili e comunque vabbè e cosa succede ovviamente in un film americano dove fondono le armi servono le armi perché sta arrivando un'orda di di zombie di zombie e vabbè che facciamo vi spoileriamo anche il finale no no dai vi possiamo dire che è una gran ficata ci siamo dimenticati un dettaglio importante sì sicuramente la bionda ah la bionda la bionda io stavo pensando agli zombie ma siamo lì siamo lì perché i zombie si nutrono in genere di cervelli esatto questa non rischia nulla perché è la classica bionda non ne vogliano le bionde non ne vogliano le bionde però è la classica bionda americana senza cervello senza cervello lo stereotipo della bionda americana stile Barbie tant'è che è vestita sempre di rosa sempre sempre di rosa è una Barbie una Barbie non so se trolley rosa trolley rosa che viene caricato sulla macchina da Talassi no se lo dimentichi che caso mi sa che se lo dimentica trolley rosa tutto rosa sembra proprio la Barbie se avete visto Toy Story 2 o 3 sembra proprio è quel personaggio che è è bello odiare è il classico personaggio che mettono lì perché ti deve stare sulle palle è anche piacevole odiare quel personaggio soprattutto è piacevole per Columbus sì 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 proprio Columbus la conosce diciamo intimamente intimamente vediamo proprio come un personaggio del genere che non c'entra un cavolo con il gruppo non c'entra un cavolo con il carattere di Wichita interagire con il carattere gentile sempre di Columbus e il carattere più grezzo di Talassi che non la sopporta e non lo nasconde assolutamente e già solo quello è bellissimo ci sono tantissime cose belle in questo film una di queste è questo rapporto con questa biondina che non ricordo come si chiama Madison Madison si chiama Madison e ci sono gli zombie si sono evoluti si sono evoluti in varie categorie che categorizzano appunto lo spiegano all'inizio del film ci sono gli Homer che sono il classico zombie lento inutile impacciato che proprio può anche c'è il rischio che non ti ammazzi perché magari morde una statue muore lui muore lui quindi ci sono i come è che li hanno chiamati gli Hawking che sono quelli intelligenti che però non è che se ne vedono molti nel film politicamente scorretto camminano storti ah è vero non avevo collegato ma tutti gli zombie ma questi camminavano storti più sorti degli altri però sono intelligentissimi invece una categoria importante di zombie lento 2 vitale è il t800 lo chiamano come uno zombie suona male il t800 il t800 perché sono molto resistenti li chiamano anche i bolt a un certo punto del film perché corrono corrono e e puliscono due in uno i bolt scusate corrono sono molto resistenti molto resistenti intendo che se gli spari in testa una volta continuano ma anche a distanza ravvicinata e quindi tutta questa orda di t800 nella fine del film basta basta ma a fine del film ci sono gli t800 tanti 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 e quindi i nostri eroi sono un po' nella cacca nella cacca e quindi bisogna salvare la situazione cosa succederà andate a vedere il film perché scaricatelo tranquillamente no non si può dire no vabbè non è che non si può dire però certi film vanno visti al cinema diciamo che merita merita molto merita molto il biglietto noi l'abbiamo visto con uno sconto si può dire si si può dire abbiamo visto sconto ufficiale UC Cinemas che ringraziamo però davvero valeva anche il prezzo pieno tranquillamente molto bello non vi spoileriamo il finale però appunto è all'altezza di tutto il film ah piccola postilla che volevo dirti anche quella sera ma mi sono dimentato anzi me lo sono ricordato più tardi perché odia i clown Columbus lui li odiava già prima mi sembra lui ha sempre avuto la fobia del clown fin dal primo fin da prima del primo film fin dalla vita normale dalla vita normale ma il nemico finale del primo film era uno zombie clown uno zombie clown appunto poi c'è un un riferimento nel secondo film perché c'è un furgoncino con un clown disegnato che lo guida a me era possibile esatto comunque davvero tutti i dettagli al posto giusto che ci piacciono tanto a noi nerd trovare i dettagli tra un film e l'altro ma non sono gratuiti assolutamente è tutto messo bene alla professione e l'uccisione dell'anno del 2 è vero porta a casa un italiano di Pisa esatto e anche questo va visto va visto va visto perché appunto nominano questa uccisione dell'anno ne fanno vedere diverse ce n'è una ambientata in Italia dove fortunatamente nel doppiaggio italiano il pisano è stato doppiato in toscano anche se si nota dalla recitazione che sembra un po' più del sud perché per gli americani noi italiani siamo tutti un mix tra il napoletano e il siciliano infatti si vede proprio che fa così poi non lo so pisani fate così non lo so fatecelo sapere andate a vedere il film e fateci sapere se fate così e soprattutto se fareste così e se fareste così esatto se uccidereste così uno zombie o più zombie uccisione spettacolare andate a vederlo andate a vederlo andate a vederlo di corsa cercate di correre più veloci degli zombie regola numero uno cardio mi raccomando regola numero uno cardio allenatevi e noi con questo vi salutiamo sempre con l'inchino e con l'imbuto vi salutiamo non fa la rima però siamo in due quindi con l'inchino e con l'imbuto vi saluto e basta e arrivederci e arrivederci al prossimo video io aspetto sempre che nei commenti qualcuno completi il mio saluto ma finora nessuno conosce il detto quindi vi saluterò io così esatto alla prossima ciao ragazzi e ragazze era soprattutto ragazze ciao 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 ciao